ciao a tutti la spiegazione di oggi è quella di questo bracciale l'occorrente per realizzarlo al cotone numero 20 poi servirà l'uncinetto numero 12 1.0 un ago delle forbici e dei bottoni automatici di plastica trasparente la misura del bracciale è adattata a 17 centimetri circa allora comincio subito col dare la spiegazione dobbiamo fare 88 catenelle terminate le 88 catenelle adesso facciamo quattro punti bassi poi dobbiamo fare 5 catenelle saltare quattro punti base 1 2 3 4 e nel quinto facciamo un punto basso e ripetiamo 5 catenelle saltare quattro punti base è un punto basso questo lo facciamo per tutta la lunghezza del bracciale dobbiamo ottenere il totale 16 archetti una volta che abbiamo fatto dobbiamo terminare sempre abbiamo iniziato con i 4 4 punti bassi e terminiamo con quattro punti bassi adesso arriviamo da questo lato e anche da questa parte facciamo 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 un punto bassissimo poi per sostituire il primo punto basso facciamo una catenella e anche qua dobbiamo fare quindi totale quattro punti bassi poi nell'archetto delle cinque catenelle dobbiamo fare sette punti bassi in ogni archetto dobbiamo fare sette punti bassi terminiamo il secondo giro con quattro punti bassi poi per lavorare il terzo giro lo lavoriamo da questo lato quindi dobbiamo arrivarci con due punti bassissimi così poi facciamo una catenella per sostituire il primo punto basso e anche da questa parte lavoriamo quattro punti bassi poi nell'archetto delle cinque catenelle anche da questo lato dobbiamo fare sette punti bassi in ogni archetto il quarto giro adesso dobbiamo fare dobbiamo girare lavoro fare una catenella per sostituire primo punto basso e anche qua dobbiamo fare quattro punti bassi poi facciamo quattro punti bassissimi per arrivare al centro dell'archetto e poi facciamo 5 catenelle e al centro del prossimo archetto facciamo un punto basso nuovamente 5 catenelle è un punto basso per tutto il giro terminiamo il quarto giro con i quattro punti bassi poi giriamo il lavoro è il quinto giro dobbiamo fare punti bassissimi sino ad arrivare all'archetto delle cinque catenelle facciamo un altro e poi nell'archetto delle cinque catenelle facciamo di nuovo sette punti bassi in tutti gli archetti terminiamo facendo gli ultimi punti bassissimi abbiamo anche terminato il bracciale adesso prima di chiudere teniamo il cotone un po lungo perché alle due estremità dobbiamo cucire i bottoni quindi prendiamo la coppia dei bottoni poi prendiamo un lago prendiamo il bottone e lo posizioniamo al centro dei punti bassi facciamo un'altra volta e poi questo lo fermiamo dietro poi all'altra estremità del bracciale cuciamo l'altro bottone poi questo andrà fermato io spero di essere stata chiara nella spiegazione di avervi regalato un'idea in più auguro buona creazione a tutti al prossimo video ciao